Michele Laginestra, ben trovato, ciao attore, conduttore di cinema, di teatro, di televisione, innanzitutto avvocato. Tu sei un avvocato. Innanzitutto mi pare troppo. No, perché uno diceva il figlio fa l'avvocato, mica dice fa il conduttore, l'avvocato viene prima. No, ho studiato anni e anni e l'ho messo nel cassetto. Perché? Ma perché forse non mi interessava così tanto, io dovevo studiare per non far dire nulla ai miei, io ho figlio di professori universitari, mamma ricercatrice universitaria, non potevo non studiare. Ho preso leggi perché mi sembrava un qualcosa di più vicino a un discorso umanistico, però anche un po' più pratico perché la praticità un po' mi accompagna. Poi sono laurea di legge ho detto che faccio, non faccio la pratica per diventare avvocato. Nel frattempo avevo cominciato a lavorare perché mi hanno preso subito, appena laureata, erano bei tempi. E poi dopo sono diventato avvocato, ma la mattina andavo all'ufficio, poi inizio facevo l'avvocato, la sera facevo l'attore, poi finalmente sono riuscito a fare solo l'attore. Hai chiuso lo studio? No, perché ho vinto il provino per condurre solletico la tv dei ragazzi. Però tu in realtà hai cominciato con i giochi in tv, come Renzi e Salvini, insomma. Come giochi in tv? No, non facevi di quiz queste cose. No, no, mai? No, non ho mai fatti. Io ho vinto un programma che era Beato tra le donne. E vabbè, non era un... Eh sì, come Renzi. No, no, assolutamente no. Erano tutti giovani, quando l'ho fatto io era il primo anno, erano tutti giovani artisti che potevano in qualche modo esibirsi in televisione, c'era chi cantava, chi ballava, chi recitava e avevi la possibilità, insomma, di dover conquistare un pubblico femminile. C'era qualcuno che faceva il belloccio, c'era chi faceva il simpatico come me e io vinsi, ma vinsi la prima puntata e andò talmente bene la trasmissione. Ho deciso di fare una finalissima tra tutti i vinciti e io vinsi il titolo di Beato tra le donne e fu bellissimo perché ho vinto una macchina e ho vinto un viaggio in Brasile. La macchina l'ho venduta, ci ho pagato le nozze e il viaggio in Brasile ci ho fatto il viaggio in Brasile. Quindi non ti è servito a niente Beato tra le donne. L'ho proprio buttata, come è andare a capito al ristorante col panino? Ecco, io sono andato al ristorante col panino. Dunque, tu, televisione sei va bene, solletico, sei Cesaroni, sei Colorado, sei cinema con i film di Pupiavati, di Paolo Genovese, di Fausto Brizzi, si può dire Fausto Brizzi? Si può dire sì. Eh, no, perché adesso non si può parlare di Fausto Brizzi. Purtroppo in Italia siamo in un vortice che, insomma, comanda la televisione, perciò quello che dice la televisione è bene o è male. E un po' questo dobbiamo sfatare, cioè la vita è un'altra cosa. Poi ci sarà qualcuno che è responsabile umanamente più che penalmente e dovrà fare i conti con la propria coscienza e poi con quello a cui dovrà rendere conto. Però questo processo, la cogna mediatica, a me non piace. Sicuramente c'è stata qualche azione sconveniente. Perché qualcuno ti ha molestato? Ma sì, oppure tante volte fai finta pure di non accorgerti di qualcosa di sconveniente. No, ma la molestia non deve essere per forza solo quella sessuale. Cioè la molestia di qualcuno che ha un potere che può esercitare su di te. Sta a te capire se vuoi accettare questa molestia, essere succubi di un qualcosa oppure rinunciare a quello che per te può essere la cosa più importante. La carriera artistica non deve passare attraverso questi compromessi, io ritengo. Poi dici, ma avresti avuto delle scorciatoie professionalmente se avessi accettato o meno? Forse. Forse, non lo so, io non te lo so dire. Io so solo che quando mi sveglio la mattina sono contento, mi guardo allo specchio e dico, ammazzato, che bel giovanotto di 50 anni. Ancora? 50 anni? No, di più, 53. Vabbè non si dice. Infatti ho detto 50, ma tu hai voluto virtualizzare, adesso lo sanno tutti. 53, portati benissimo. Tu sei a teatro con le pièce che scrivi, ma tu sei stato il mitico rugantino e l'ultimo rugantino di Garinei. Sì, sì. Beh, insomma. Purtroppo è morto Garinei, che forse avrebbe forse incoronato qualcun altro. Però è stato un grandissimo successo, un'occasione meravigliosa, no? Questa cosa la racconto sempre. Io 15 anni. Io te la faccio ridire a posto. Sono andato al teatro Sistina a vedere Rugantino con Enrico Montesano, era il 1978 o 79. Io ho uscito dal Sistino e ho detto, io da grande voglio fare Rugantino al Sistino. E questa cosa qua è diventata un po' la barzelletta, perché con gli amici miei che mi prendevano in giro, oh, Rugantino, sì, Rugantino. E per i miei 18 anni mi regalarono un Oscar, sei di quelli confiabili enormi, che ho scritto migliore interpretazione di Rugantino nel 1999. poi nel 1999 hanno rifatto Rugantino senza di me, con Valerio Mastandrea, però Valerio poi si è scocciato, ha lasciato questo posto vacante. Io ho organizzato uno spettacolo per farlo vedere a Pietro Carinei, per farmi conoscere da Pietro Carinei. Gli ho mandato cassette. Ma davvero? E lui venne al Teatro Sette a vedere questo mio piccolo teatro, che era appena nato, venne a vedere questo spettacolo e poi incominciò a venire il direttore del Sistino, l'ufficio stampa del Sistino, Gino Landi, e poi venne Laferilli a vedere lo spettacolo. E appunto, con Laferilli. E da là... E lì sempre tua moglie e tutto, ma nessun problema. Ma io dico, ma se uno deve fare cose, lo fa davanti a 1500 persone. Ma è l'occasione, pure Tom Cruise, insomma, capita, uno fa un film e... Ma in America, qua in Italia siamo più semplici, uno finisce lo spettacolo, torna a casa, buonanotte. Senti, Teatro Sette, da dove nasce, cos'è? Teatro Sette è il teatro della parrocchietta, io lo chiamo parrocchietta, ma nel senso positivo perché c'erano i compagnucci della parrocchietta, come dice Alberto Sorge. Io facevo parte dei compagnucci della parrocchietta, c'era un oratorio, c'era questo salone enorme con un palcoscenico di cemento armato in fondo. E abbiamo cominciato a fare tante attività, là io avevo 14-15 anni, e un giorno il sacerdote che ci seguiva si era scocciato di farci la regia, se n'è andato, e io tutti quei mesi di prova ho detto, ma ti pare possibile che dobbiamo lasciare così, senza un frutto questo sacrificio di mesi e mesi di prova. Ho preso in mano le redini della situazione e ho fatto la prima regia a 19 anni, a 18 anni, 19 anni, e dall'anno mi sono più fermato, abbiamo scoperto che il teatro è una buona alternativa alla strada, perciò in questo ambito che frequentavamo, avevamo fondato un'associazione per la prevenzione della delinquenza minorile e avevamo scoperto che il teatro era un buon modo per aggregare i giovani, per creargli un interesse. E allora, pian piano avevamo costruito questo percorso, ho incontrato un sacerdote illuminato, padre Giuliano, che mi ha ascoltato e abbiamo deciso di ristrutturare il teatro, il teatro sette, invece di regalare i soldi che guadagnavo come teatrante ad altri teatri, li facciamo fruttare qua. Io facevo un altro lavoro, perciò ero distaccato dal discorso economico e è nato il teatro sette, ci ha preso la mano, abbiamo speso... Da quanti anni vive il teatro sette? 22 quasi. E funziona? Ed è forse uno dei teatri più interessanti di Roma, certo lo dico io, è un teatro da 150 posti, funziona molto molto bene, è sempre pieno, frequentato da artisti riconosciuti a livello nazionale, perché ormai si è saputo che è un teatro che funziona, il pubblico è molto affezionato, abbiamo tanti abbonati, facciamo tante attività, facciamo laboratori teatrali per... E infatti per esempio cosa avete a che fare voi col Mozambico? Noi sempre nell'ambito di questa associazione poi decidemmo di adottare, iniziare un progetto di adozione a distanza e abbiamo adottato proprio una missione in Mozambico, abbiamo costruito cogli e spettacoli teatrali, due scuole, un dormitorio e abbiamo sostenuto proprio la missione, poi questa associazione è diventata Ollus, si chiama Teatro Sette Solidarietà Ollus. Tu ci sei andato in Mozambico? Ci sono andato, secondo me uno dovrebbe fare un salto in Africa e poi torna e capisce che le problematiche che abbiamo qua forse andrebbero un po' ridimensionate, la semplicità dei bambini del Mozambico mi ha insegnato moltissimo, loro riescono a divertirsi con nulla, come si faceva i nostri nonni, la semplicità era questa, loro giocano con un copertone, con un favore ora, io gli ho insegnato il gioco delle bocce, ho dei tappi sulla sabbia, abbiamo fatto la pista con il sedere, gli ho insegnato, avevamo preso tutti i tappi di bottiglie e poi facevamo la gara, non c'eravamo le beglie, sarebbe stato bellissimo, però impazziti, ma perché basta veramente poco? Anche perché la semplicità dei bambini è quella che ci insegna a vivere questa vita. A proposito di semplicità, tu sei diventato anche molto noto agli schermi televisivi facendo un prete, un prete che è Don Michele, un prete molto semplice che parla in semidialetto, un prete popolare che dice cose molto profonde nella sua semplicità. Ora siamo un personaggio di Guareschi, però tu non prendi solo in giro facendolo parlare. No, ma sai qual è? Io dico sempre, c'è una missione in ognuno di noi e io ho presa sul serio, nel senso che mi ci vesto pure da prete, però mi piacerebbe far dire al sacerdote quello che tante volte da un pulpito non può dire perché c'è tra virgolette uno stile che devono mantenere. C'è ancora? Sì, ancora c'è e tante volte invece un discorso tra una risata e l'altra, qualche sacerdote sta prendendo spunto da questa, fortunatamente, da questo modo di comunicare, perché col sorriso riesci a comunicare, con una risata riesci a comunicare dei messaggi anche profondi, però abbatti delle barriere che noi mettiamo, quando parliamo se io riesco a farti ridere tu ti abbandoni e all'ascolto molto più facilmente e attraverso il personaggio di questo sacerdote tra una risata e l'altra arrivano dei messaggi importantissimi, importantissimi che io ho imparato negli anni, ho imparato ma non perché sono nato imparato, perché ho imparato perché ho prestato attenzione, ho voluto un po' approfondire alcuni temi, perciò ho potuto godere della possibilità di dire quello che i sacerdoti così direttamente vorrebbero, però anche la soddisfazione di averlo fatto davanti a personalità del mondo ecclesiastico che mi hanno detto bravo, continua così. Ah, non si sono stizziti, no? No, assolutamente. Quindi un po' di sensoluborismo gli ecclesiastici lo mantengono? Quelli illuminati sì. Il problema è quando uno si prende troppo sul serio nella vita in generale, cioè tu hai un ruolo e questo ruolo non posso ridere, non posso sorridere, non posso fare battuto, ma perché? Perché perdere una parte bellissima del tuo essere umano perché per esempio ha un ruolo istituzionale. Io penso che un modo di comunicare con un sorriso è il modo di comunicare migliore, un modo di comunicare con l'altro attraverso degli occhi che ridono, anche attraverso una battuta che sdrammatizzi una situazione, non ci priva della possibilità di parlare di argomenti profondi e di affrontare anche problematiche, però forse dà anche uno stimolo a risorto. Da mio signore il senso dell'umorismo, diceva Santo Masomoro, è difficile però ridere in certe situazioni, no? A volte l'umorismo può essere superficiale. Tu sei un uomo di fede, come si fa a vivere la drammaticità anche della fede con questo spirito? Guarda, io ho imparato questa cosa qua, l'ho imparata da mio padre, nel senso che lui era una persona molto sorridente e anche sul letto di morte lui riuscì a sorridere. Lui si preoccupava della persona che stava accanto a lui, diceva parlate un po' con i parenti di questa persona, non sta bene. E lui stava morendo, perciò si preoccupava che noi dissimo aiuto a quello che stava vicino a lui. Pensa un po' quanto poteva essere illuminato papà. Però ho imparato che col sorriso io potevo dare serenità. Mi è capitato in tanti funerali, io mi avvicinassi alla persona che era il parente del defunto, sorridendo, cioè sdrammatizzando una situazione che era critica per alcuni. E mi hanno ringraziato, mi hanno ringraziato come fossi un angelo portatore di un messaggio di uguale spessore, non lo so, però mi sono accorto che era importante. Perciò non una risata, ma una serenità di fondo che si può manifestare anche attraverso... Il comico, l'umoristico e il sarcastico sono cose molto diverse, no? Sai, la comicità è un modo per esprimere dei concetti attraverso una battuta. Tante volte può essere tagliente, tante volte può essere fine a se stessa. Se tu riesci a organizzare... Far male. O far male. Se tu riesci a organizzare una comicità che è finalizzata a un messaggio più profondo, almeno io questo cerco di fare su un palcoscenico, cioè scrivere pensando di voler dire qualcosa, oppure non per forza dare una soluzione, però scagliare un sasso in modo che qualcuno attraverso i cerchi che nel sasso lanciato nello stagno possa in qualche modo, dice, ma questi cerchi qua cosa vogliono dire? Che cosa voleva dire con questa frase buttata là? Ecco, a me piacerebbe portare una riflessione, stimolare un confronto tra le persone, questo è il fine che voglio raggiungere. Se lo riesco a fare attraverso anche delle risate stupide prima, secondo me facilitò il compito di chi ascolta e forse anche il mio, cioè nell'essere ascoltato. Tu hai trovato un sacerdote come Don Michele? Illuminato e sorridente? Io ho trovato un sacerdote, ma ne ho trovati più di uno fortunatamente, però dico sempre che io ho cercato tanto, nel senso che nella mia vita non mi è mai bastato, io ho bisogno di approfondire ancora oggi tanto e non mi basta, non mi piace legare la mia fede a un sacerdote che parla bene, a me piace arrivare alla fonte e se c'è qualcuno che mi aiuti a arrivare alla fonte, ben venga, se no devo fare un lavoro per conto mio, ma sempre in confronto con gli altri perché questa presunzione di essere arrivato, di aver capito, non mi appartiene. Ho capito tante cose, ma è come una scala, vuol dire che i gatini... Contentarsi mai. Non mi accontento, anzi il mio invito è proprio quello di cercare una risposta, se non ti arriva a casa devi uscire fuori di casa e questo è un dato di fatto, però è la vita che ce lo insegna. Funziona così anche per i tuoi figli Michele, anche loro hanno trovato un Don Michele, un sacerdote pronto a sorridere e ascoltarli e anche loro lo vanno a cercare? Sì, sì, spero di aver dato l'educazione giusta, nel senso che non deve bastare quello che diciamo noi genitori, anche se noi abbiamo un rapporto privilegiato, non tutte le famiglie hanno la possibilità di ritrovarsi a cena insieme e parlare, oppure rimanere dopo cena a parlare e continuare a parlare con i figli, con i due figli che si ridicano la possibilità di parlare con noi, cioè questo è un privilegio, però dico pure che devono andare oltre la figura paterna o materna, loro devono vivere la loro vita, perciò io devo essere capace anche a fare un passo indietro nel momento della necessità, cioè riuscire a aver dato le basi per poter camminare per conto loro, perché sennò tutti i figli rimarrebbero attaccati ai genitori e non sarebbe una cosa buona, così come tutti i sacerdoti veramente illuminati devono fare un passo indietro a un certo punto, cioè tu conduci per mano fino a un certo punto il… Ma non a te. No, dico cioè devi arrivare a comunicare un messaggio che va oltre la propria persona, questo però… Tu parli di famiglia in un modo molto naturale, in realtà molto strano, molto provocatorio oggi, molto fuori moda e molto rivoluzionario anche, cioè il desco a tavola la sera con i figli, non come cosa chiusa ma aperta eccetera, ho presente il programma che hai fatto per TV 2000 e che farai, il programma del secolo, non perché è il più figo di tutti, ma perché c'è quasi un secolo di mezzo tra nonni e nipoti, perlomeno due generazioni e anche qui è come una famiglia questo spettacolo, cioè parlare di famiglia così oggi, dove tutti i cardini di questa istituzione sociale, prima ancora che religiosa, sono saltati, è volutamente una provocazione o è un'esperienza? Ma no, è un'esperienza innanzitutto perché io sono una famiglia fortunatissima, noi siamo quattro fratelli, ci adoriamo, ci vogliamo molto bene, mia mamma è rimasta il punto di riferimento di tutti noi, perciò insomma io so le notizie degli altri fratelli, avendo imparato l'importanza di avere una struttura che ti dà la possibilità di camminare per conto tuo, l'ho voluta, allora anche io sono chiamato a fare questo percorso, la famiglia è la prima forma di aggregazione, ma poi dopo ce ne stanno tante altre, un tempo c'erano le tribù, un tempo c'erano i gruppi del catechismo, oppure c'erano gli interessi politici, le scuole di teatro, di musica, è importante confrontarsi con gli altri, crescere, mai essere succube degli altri, ma è importante non bastarsi, perché sennò dopo in qualche modo manca il rapporto di coppia, se tu ti chiudi in una coppia è negativo, tu devi essere inserito in un contesto più ampio e la forza, l'unione tra i due deve essere un elemento scardinante di alcune chiusure che tante volte troviamo intorno a noi, noi dobbiamo essere l'elemento dal quale si parte per aggregare più persone, per poter creare comunità, per creare comunione, ma questo è un dato di fatto, ma poi nella vita, se tu mangi insieme agli altri è un momento di comunione, è bellissimo, è più bello, se tu bevi insieme agli altri un concetto di vino è aggregante, non è caso che il cibo, il pane e il vino sono gli elementi dell'eucaristia, cioè noi abbiamo la possibilità di comunicare con gli altri in momenti felici, partiamo dalla famiglia e stagnavo, ma non perdiamo questa voglia di stare insieme. Senti, un prete come Dio comanda, che tu hai avuto la fortuna di incontrare, come Cristo comanda in realtà, è il titolo di un tuo prossimo spettacolo, dove tu sei e siete insieme, due centurioni, ma non due centurioni qualsiasi, due centurioni sfiorati da Cristo e cambiati quindi. Mi è venuto in mente di scrivere questo spettacolo perché mi sono domandato, nel momento in cui noi viviamo un evento eccezionale, forse più straordinario dell'umanità, la morte di Gesù Cristo, in quel momento, si è consapevoli che quell'evento è effettivamente straordinario? Cioè capitasse oggi, noi ce ne accorgeremmo con tutta la disponibilità di mass media e via dicendo, quanto ti cambia nella vita? Cioè come fai a credere che quello effettivamente era il figlio di Dio? Che cosa è successo in quel momento e che cosa possono aver recepito queste persone? Semplici, erano due soldati romani, uno era il capo della centuria di guardia della croce, era il sepolcro, l'altro è quello che gli ha dato acqua e aceto e questi due sono in fuga nel deserto, poi pian piano cambieremo il perché, però si confrontano su quello che è appena accaduto. Uno ha recepito un qualcosa, l'altro ha recepito l'esatto opposto, però al confronto di questi due forse riusciamo a essere un po', a rappresentare un'umanità, da una parte quelli che in qualche modo sono stati coinvolti dal grande messaggio che Cristo ci ha dato e quegli altri invece quelli che sono rivasti indifferenti, pur conoscendo il messaggio. Allora mi piaceva confrontare queste due personalità fino al finale che non sto qua a svelare. Anche perché vai in scena tra poco. Andiamo in scena con Massimo Bertmuller che è un attore straordinario e affascinante, è uno spettacolo scritto alla Gigi Magni, perciò c'è questa romanità che non apparteneva forse ai soldati che erano stati mandati in Palestina. Beh, quando leggiamo Asterix e Obelix sono un po' così. Sono un po' così, Gigi Magni pure ha fatto un film, secondo me un civilato, che era molto simile, però c'è questo dubbio su una verità appena accaduta. Il dialetto romanesco aiuta, ma è un romanesco d'altri tempi, è un romanesco di fine Ottocento, perciò è un bel modo di comunare. Malandrino ma buono. Malandrino, simpatico, gioviale, fino a quando poi affronta. Non è quello di Suburra. No, quello di Suburra è romanaccio, è diverso. Noi ci siamo un po' in coattitudine, siamo unità di coatti, nel senso che siamo costretti a subire una romanità che non ci appartiene. Il coatto è una cosa forzata. No, è soltanto apparentemente superficiale come inciso. No, no, è proprio una tradizione alle spalle del romanesco, ma è il romanesco che appartiene a Rugantino, il romanesco che appartiene ai nonni, qualcuno ha avuto la fortuna di veder nascere nella Roma. A Trilussa, a Belli. A Trilussa, a Belli, a Mascarelli e via dicendo. E Massimo è un rappresentante della romanità, siamo diretti da Roberto Marafante, che è un bravissimo regista, molto sensibile. Io gli ho fatto leggere questo testo e loro sono rimasti innamorati. Tu sei dalla parte del centurione che è rimasto indifferente o dalla parte di quello toccato dalla grazia? Dalla parte di tutte e due. Nel senso che io penso che il dubbio debba essere quello che ci dà degli stimoli alla ricerca. Il dubbio può far diventare cinici, scettici? No, perché se c'è una speranza, c'è una voglia di sapere di più, il dubbio anzi aiuta e stimola. Un dubbio positivo, non negativo. La domanda. Un qualcosa al quale tu vuoi rispondere. Però se non c'è questo stimolo del dubbio diventi forse tante volte pigro. Anche lì ti accontenti, no? Eh sì, non c'è voglia di andare avanti. Invece con questo dubbio il confronto di tutte e due mi piace. Cosa significa il tuo lavoro da cristiano, Michele? Varrebbe per un idraulico, un insegnante è un panettiere, no? Non è che uno deve... un panettiere cristiano è diverso da qualche volta. Però l'ambiente, diciamo, dello spettacolo non è così aperto, insomma, no? È sempre un po'... Ma sai, io penso, e a me piace tantissimo l'idea di pensare... il finale dello spettacolo che farò a Sestini a maggio. Ognuno di noi ha ricevuto una missione da compiere, un talento da sfruttare, chi ne ha ricevuto 4, chi ne ha ricevuto 10, ma non ha importanza, cioè deve rendere frutto per quello che gli è stato dato. Io ho avuto la fortuna di poter essere uno che quando esprimo un concetto da un palcoscenico lo riesco ad esprimare in modo abbastanza recepibile per i più. E allora sono costretto a dare dei messaggi, uno stimolo alla riflessione come dicevo prima. Per me è una missione che devo compiere, ma anche chi fa il proprio lavoro quotidianamente, perciò tu dicevi un idraulico, un panettiere, con la gioia di poter fare un qualcosa che è utile anche agli altri, secondo me affronta la vita meglio e sta facendo, sta portando frutto per quei talenti che gli sono stati donati. Non hai trovato un po' di ostilità o qualche presa in giro per questa tua dichiarata appartenenza alla fede cristiana nel tuo ambiente? No, perché poi dopo tu vieni valutato per come agisci, non tanto per quello che dici, perché c'è gente che dice delle cose importantissime, ne ho conosciute molte e purtroppo troppe che poi dopo nel comportarsi quotidianamente erano un po' dissonanti rispetto a quello che predicavano. Se tu ti comporti in un modo coerente non meriti altro che rispetto e la mia fortuna è che io più che parlare agisco e perciò se tu sei una persona corretta riesci in questo mondo a essere una mosca bianca perché sei corretto, perché se c'è da pagare uno stipendio lo paghi immediatamente, se c'è da pagare una fattura lo fai, se tu dici una parola è quella e non ti nascondi e non accetti il compromesso, cioè non fai delle scelte perché quello è più importante rispetto a quell'altro. Per questo non è necessario aver incontrato Gesù, no? No, no, è questo. Qual è la differenza allora? È che mi pesa molto di meno, non sono da solo, io faccio delle cose che dovrebbero essere nella norma, però lo faccio con molta facilità. Il fatto anche di essere un gruppo di persone nel lavoro, sono tutti alla pari, per me questo mi viene da alcuni principi, da un'educazione, però dico insomma sono valori condivisibili anche da chi non crede, se poi dopo tu gli riesci a far capire che tutto questo è finalizzato dal fatto che poi noi alla fine quanto viviamo? 70 anni, 80 anni? Per i più robusti diceva la Bibbia. Dico ma in fondo se parli di un'eternità, tutta questa fatica che facciamo per vivere bene questi 70 anni, se non la vedi in una prospettiva più ampia, cioè domani mi distraggo, con questi cellulari malefici magari attraverso la strada, prendo la macchina, pom, è finito mica la ginestra. Dico se non c'è un qualcosa di più importante per il quale vivere... E' quello che speri per i tuoi figli? Ma è così, deve essere, cioè noi dobbiamo avere... Sai quanta gente dice, ah non vale la pena mettere figli al mondo, così brutto il mondo, a parte che i nostri nonni hanno fatto due guerre, era peggio il mondo però... No, ma il mondo è bellissimo, il problema è che noi non ci accontentiamo di quello che abbiamo. Quando dicevo il Mozambico prima, ma non perché, il Mozambico non si rendono conto... Aspetta, aspetta, abbiamo detto che accontentarsi è brutto. No, 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 non ci accontentiamo di quello che abbiamo, non ci accontentiamo nel senso che non godiamo di quello che abbiamo, nel senso che aspiriamo sempre a qualcosa di meglio, che non è un qualcosa di materiale. Noi dobbiamo crescere e cercare sempre il meglio, ma godere di quello che stiamo vivendo. Se io cercassi sempre un qualcosa di più, non essendo contento di quello che sto vivendo, è errato. Invece gioiamo di questo, ma non accontentiamoci. Cerchiamo qualcosa che possa dare gioia non solo a te, ma anche agli altri. Questo è un concetto che secondo me vale la pena portare avanti. Nel senso che non è importante quanto sei diventato famoso, ma quanto riesci a fare con quello che hai di rispetto da parte degli altri. Non è importante quanto guadagni, ma quanto riesci a essere contento di quello che hai in questo momento. E tu di cosa vorresti essere contento in quest'anno appena iniziato? Ma io vorrei essere contento di quello che sto facendo. Ma com'è? Io vorrei stare così tutta la vita, perché è un momento felice, ma che mi dura da tanti anni fortunatamente. Un momento felice anche nelle disgrazie, nel senso che poi non è che non hai i tuoi lutti personali, che non è per forza la morte di qualcuno, ma anche la delusione professionale, il dispiacere perché anche una persona cara ti ha voltato le spalle, nonostante tu abbia fatto di tutto perché non accadesse. Io vivo la vita di tutti i giorni. Non ti fa paura il tempo che passa, Michele? No, 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 vorrei... Quindi fermarti adesso, però non hai timore del domani. No, no, assolutamente. Io godo, io ho mille progetti per la testa, sono uno alla continua ricerca di un qualcosa di nuovo, di stimolante, di poter essere utile a qualcun altro, di poter raggiungere io insieme. Cioè, il mio progetto è di crescita. Poi dopo dici, ma sta crescita qua, sta rincorsa di un qualcosa, è finalizzato a se stesso o a un qualcosa di più ampio? Io penso qualcosa di più ampio, perché sono consapevole che, insomma... Preferisco il paradiso. Eh sì. C'era un progetto. Eh sì, quello preferisco. Quando faceva San Filippo Neri. Ma quello, 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 perché poi sti santi, quando dicono queste frasi che vengono riportate, hanno preso il meglio che hanno detto. Perciò quello dice, attraverso l'umorismo noi salveremo la terra. Preferisco il paradiso, cioè, state buoni se potete. Sono tutte belle frasi, ma se prendessero una frase mia, prenderebbero la migliore, no? Quale vorrebbe essere? Ma no, sorridete sempre. Sorridete sempre, devi ancora scriverla. Sì, questa cosa del sorriso, penso che possa essere una chiave di lettura importante. Una canzone che la rappresenta, ti rappresenta, per chiudere? A me piace molto Alleria di Pino Daniele. Non è romana? Non è romana. Io adoro Pino Daniele e Alleria è un messaggio, c'è un'allegria di fondo che, insomma, noi dobbiamo ricercare anche nei momenti bui. E io, prima di fare gli esami, c'avevo un'altra canzone di Pino Daniele che ascoltavo, che è Un giorno che non va. Ma prevenivano. Fammi cantare adesso, il giorno che sono felice, dopo l'esame non lo so se lo potrò essere. E però ha portato bene, mi sono laureato, ho fatto tutto quello che devo fare. Servita a niente, ma ti sei laureato. No, è servito per la mia virtù. Il pezzo di carta ce l'hai, certo, è chiaro che è così. Questo poi soprattutto bisogna dire ai figli, no? Ma il pezzo di carta serve per te, per la tua cultura personale, perché poi quando ti confronti con qualcun altro non sei secondo a nessuno, ma che non te lo dà il pezzo di carta, ma ti dà la base, dice. Dunque allegria, non come c'è mai buongiorno. No, no, allegria, serenità, speriamo. Grazie, ciao Michele, grazie. Passo di becca fa, tutto cresce e se ne va. Passo di bello, vuoi bene anche io. Bello, ti sei laureato, speriamo. Ma non è, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita, per la mia vita. No, non è, per la mia vita, per la mia vita. Grazie, grazie, grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti